Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, siamo tornati qua con il nostro impero neo-ottomano e oggi dovremo sconfiggere dei grandi nemici. Nello scorso video non avevo realizzato bene, ma in effetti la Russia ha annesso le altre Russie. L'impero russo e l'Unione Sovietica sono infatti passate sotto il controllo della Russia. Quindi ora noi per proseguire dovremmo invadere gli stati più grandi, ecco. Ma partiamo con ordine. Qua c'è l'esercito reale e quindi direi subito di mandarlo da qualche parte dove effettivamente può servire. Mmm, la scelta c'è di cosa attaccare. Bah, io inizierei con la Spagna. Quindi mandiamo a Lisbona le nostre truppe e iniziamo a combattere dalla Spagna. Nel mentre qua assimiliamo qualcosina che non fa mai male. Tanto ancora mi dirà che ci saranno 3.000 civiltà da assimilare ovviamente. E noi siamo qua, con le nostre risorse limitate, o quasi, ad assimilarle tutte. Bene. Finché non scoppiano rivolte, siamo tranquilli. Olbia, Canterbury... Quante città ancora da assimilare? Wow. Salvare questo impero è più difficile del previsto. Però già il 96% è buono. La stabilità sale e scende. E questo non è buono. Però, io sto procedendo lo stesso. Probabilmente i soldi ce li consumeremo tutti così, ma a dettagli. Nel frattempo qua, il resto del paese progredisce. Per il resto ci siamo sparati tutte cose a risorse. Quindi, per ora, lasciamo stare. Quando avremo di nuovo i milioni abbondanti, poi vedremo che farne. Molto bene. Per il resto abbiamo... 6 10 12 14 territori di confine. Beh. Direi che possiamo mandare un po' di truppe. Non lo so, facciamo... Fatemi fare un conticino rapido. 16.000 truppe da... No, 16.000, che cosa sto dicendo? Proviamo a mandarne i 5.000 Per posto e vediamo cosa succede. Un pochino sparsi. Senza però bloccare la registrazione. Perfetto. Tutte le truppe sono state schierate lì. Qui quante ne abbiamo? 6 8 10 Allora, se io voglio fare 10 eserciti, mi servono 50.000 unità. Quindi ne muoviamo... 55.000 qua. Perché però? Perché queste saranno un po' le riserve. Le piazzeremo qua come riserve. E così ora lo faremo qua. Guardate. Avendo fatto i conti bene, posso anche pianificare di avere un esercito di riserva. Esercito di riserva però, che metteremo qua. Quindi muoviamo circa 10.000 truppe. E mettiamole a Tolosa, queste qua di riserva. Poi facciamo spostare queste 25.000 qua. E dividiamole. 5 5 5 5 5 E 5 Benissimo ragazzi, non ho fatto niente. Come vedete? L'impero adesso è stabile. Ottimo. Strano, pensavo ci fossero più città. Che hanno bisogno di una mano. L'impero è stabile al 99%. Mi piacerebbe avere scritto 100 prima di attaccare. Ma a quanto pare non sarà possibile. Vabbè dai. Addio sogni di gloria. E vabbè dai. Sapete cosa? Lasciamo stare. Tanto non è possibile realizzare i nostri sogni di gloria. Detto ciò, attacchiamo la Spagna. Finalmente è giunto il suo momento. Sì, con i punti pace o comunque li usiamo per assimilare. Tanto non abbiamo altro da farci. Piccolo imprevisto non calcolato. Potrebbe anche essere che serviranno più truppe del previsto lì. Facciamo così ecco. Qua mandiamoli tutti avanti. A combattere. Facciamo così. Qui avanziamo. Qui abbiamo le riserve. Molto bene. Subiamo dei pesanti attacchi dagli spagnoli. Ma tutto è stato sistemato già. Wow. Quasi quasi sistemo un attimo i miei attacchi. Attacchiamo anche Gibilterra. Per il resto abbiamo già molte unità libere. Cioè possiamo già attaccare meglio Madrid. Qua facciamo così. Diciamo che gli ottomani si stanno facendo valere. Già. Quindi portiamo un po' di truppe a Madrid. Qui sarebbe bello finire tutta la Spagna. Cioè per assurdo questo qua potrebbe anche essere il penultimo turno. Se tutti i calcoli sono esatti. Ok i calcoli non saranno stati tutti esatti. Ma abbiamo vinto sicuro. Wow. 92% della Spagna crolla. Manca solo un po' di Sicilia. Che va a terminare in questo esatto momento. La Spagna ha sofferto il doppio dei nostri morti. Attenzione. Se resta solo quest'isola. No non è solo questa vabbè. Comunque. Da questo isolotto qua. Andiamola a prendere. Per il resto dov'è l'ultima isola? Spagnola. Ah ok. Ho capito dov'è. Molto bene. Allora. Con le truppe che abbiamo le facciamo arrivare tutte a Madrid. Anzi. Tutte a Lisbona. E da Lisbona ci andiamo. Facciamo così dai. Comunque voi state vedendo questo video di giovedì. E una cosa curiosa che non vi ho detto perché fino a poco fa non lo sapevo nemmeno io. È che il canale fa un anno oggi. In realtà lo farà domani che è venerdì perché ho iniziato a fare video il 22 aprile del 2021. O meglio precisiamo. Ho ricominciato a fare video in quella data perché il canale ce l'ho dal 2014. Quindi esattamente. Aspettate. Vorrei assicurarmi di non aver fatto fesserie. No? Il canale ce l'ho dal primo luglio 2014. Ma ho iniziato a fare video più avanti. Poi li ho tolti più volte. Li ho rimessi. Però comunque sia il canale è abbastanza longevo. Ecco ha fatto il suo primo anno e abbiamo superato i 1000 iscritti. Diciamo che come primo traguardo ci sta. Possiamo anche annettere tutta la Spagna. Il che è ottimo. Anche se ora la stabilità dell'impero è compromessa. Vediamo. Già. Guardate come neanche queste risorse basteranno ora. Ora c'è tipo Porto, Valencia. Tutta la penisola iberica da assimilare è tanta. Abbiamo un po' di... 93%. Però abbiamo un sacco di risorse. Ottimo. Bene. Avendo ancora... Scusate, dove sono finite le truppe reali? Tutte a Roma? A quanto pare. Grazie alle truppe reali adesso io farei... Intanto darei una mano all'esercito reale perché sicuramente reclutare ovunque ci porterà ad arricchirlo in seguito. Ovvero, siccome durante ogni guerra perderemo delle truppe, avere un po' di riserve è sempre buono. Quindi farei così. Giusto per non lasciarlo inattivo, schiero un esercito un po' ovunque. Poi porto l'esercito reale nell'unico buco che era rimasto libero. E qua continuiamo a reclutare perché ogni truppa buona che reclutiamo qua ce la troviamo nel nostro esercito reale più avanti. Quindi è molto conveniente reclutare. Facciamo due giri di truppe che sono buoni. Qua c'è anche Parigi, quindi reclutiamo bene anche a Parigi. E siamo arrivati. Appena le truppe saranno arrivate, direi Bretagna. Ti mando giusto un ultimatum tanto per, ma tanto non lo accetterai mai perché purtroppo sei troppo poco meno scarsa di noi. Appunto. Quindi è guerra. D'ora in poi chiederemo un ultimatum a tutti, sappiatelo. Ma prima di pensare all'ultimatum pensiamo che adesso dobbiamo marciare a prendere tutti questi territori qua. Quindi facciamo così e attacchiamo altri territori della costa. La Francia non oppone quasi minimamente resistenza, tranne un pochino là sopra. Nel frattempo qua tutti gli eserciti sono diventati inutili, quindi dovremmo anche un po' salire. Attenzione e attacchiamo qua. Subiamo dei piccolissimi assalti dalla Francia, ma niente di che ora con 17 truppe non hanno più molto da fare. Direi anzi andatevi a riprendere l'isolotto voi. Francesi annichiliti con davvero pochi morti, devo dire. Sono davvero felice di ciò. Quindi non solo ricostituiamo l'esercito reale, vediamo anche cos'è avanzato. È avanzato un bel po'. Stavolta sì. 135.000 truppe. Ottimo direi. Manca ancora una provincia però. che dobbiamo scopare. Eccola qua. La provincia della Bretagna. Niente. Ce l'ho fregata nuovamente alla Russia. Quindi annettiamo la Bretagna senza chiedere altro. E andiamola ad assimilare tutta. Ci vorranno un po' di turni in più, ma ce la faremo. Perfetto. Ne manca ancora? Non credo. Ci sono giusti i posti che sono all'80%? Nessuno più. Bene. La Norvegia e l'impero romano sono in guerra in un mondo in cui siamo rimasti in dieci. Siamo in top ten ufficialmente. Ma di stati grossi da attaccare ne restano ancora tanti. Quindi per preparare al meglio il nostro esercito reale occorre fare questo adesso. Direi che con queste truppe ci siamo e prepariamo la prima ondata. Poi queste le scioglierei perché non mi servono più. Qua reclutandosi abbastanza bene posso pensare di condurre la battaglia da sola. Mentre qua forse non si recluta proprio benissimo in tutti i punti. Cioè nella parte polacca si recluta meglio qua. Ma nel resto è un po' maluccio il reclutamento. Oddio non è proprio cattivissimo ecco. Però sicuramente facciamo tre turni di preparazione che è meglio. Poi c'è Praga che in tutte le partite si recluta da Dio a Praga. Ma anche all'Ipsia in zone come l'Ipsia qua. Possiamo addirittura prepararci un esercito per mandarlo in un posto che ho visto parecchio vulnerabile. Così abbiamo finito il primo giro. Poi facciamo così. E abbiamo finito il secondo. Con coscrizione aiutiamoli un pochetto perché mi sembrano parecchio disperati. Rinforziamo giusto qualche punticino più critico. Senza esagerare perché qua i reclutamenti si pagano e anche avere un esercito troppo grosso crea scompense alla nazione. Ci siamo tutti. Sì? Giusto un piccolo supportino qua. E direi che la prossima invasione se il gioco è salvato la possiamo già fare. Germania. Sei la seconda potenza al mondo in questo momento. Guerra. Perfetto. Risaliamo dunque tutta la versante norvegese o meglio questa esvedese. Poi. Sbarchi un po' ovunque. Assalti pesanti a Berlino. A Dresda. E un po' ovunque per il resto. Fortunatamente da ovunque si può attaccare quindi ottimo. Perfetto. Ogni attacco è andato a buon fine tranne l'unico che doveva andare bene. Diciamo. Un bel po' di resistenza non l'ho notato io però magari adesso arriva. Comunque mi serve un posto in cui ci sia un porto ovvero qui a Copenhagen e riattacchiamo la loro isoletta. Forse Berlino scoperta è un po' un problema quindi andiamola a coprire con un doppio attacco laterale più uno frontale. Qui letteralmente tutte le truppe sono già arrivate. Dovrebbe essere l'ultimo turno di guerra se non ci sono altre novità. Anche perché ormai la Germania è bella che è capitolata. No. Manca ancora un turno per terminare questo conflitto con l'esercito reale che sicuramente si è potenziato ancora. Più queste truppe che non dobbiamo dimenticare. Inseguiamo brevemente gli amici della Germania e attacchiamo di nuovo l'isoletta di Bisbi qua. Ultimo esercito di coscrizione. Creato. Vabbè ma quelle truppe adesso sono spacciate quindi riportiamo in patria tutti. E quando dico tutti intendo proprio tutti. E vabbè abbiamo finito. E invece no. Perché col potere di 21 truppe sparpagliate stanno creando davvero tanti disastri. Vabbè con 10 truppe stanno ben calme dallo scappare. La Carelia è entrata in guerra con noi? No? Sì. Beh la Carelia Non mi interessa granché. E allora facciamo così. In questa città di qua sotto Ripristiniamo l'esercito. Uniamolo e vediamo quanto c'è rimasto in effetti. Attenzione la Germania prova un assalto disperato alla Terra Madre. Che però viene fermato con successo. Scusate un attimo ma a quanto pare avevano pensato a un altro assalto. Andiamo in Norvegia. Adesso invadiamogli la Norvegia. Sperando non facciano altre fesserie Dovremmo aver vinto la guerra. Ma qua tanto abbiamo finito. Perfetto. 165.000 truppe se ne andranno in patria. 50.000 morti sono sicuramente assai. Carelia possiamo prendere tutto Tanto non c'è niente. E la Germania ce la prendiamo già tutta subito. E adesso iniziamo ad assimilare subito. Molto bene. In questo mondo stiamo restando sempre meno. Le risorse sono sempre di più. Tutta quest'area è stata posta sotto controllo. Continuiamo a sprecare soldi. Tanto qua ne abbiamo. Possiamo permettercelo. Consumiamo denaro. Magari assimilando l'aumento anche qualcosina. Proprio apposto abbiamo finito anche stavolta. E va bene ragazzi. Direi che ci siamo. In questo grande mondo siamo rimasti in nove. Nel suo tempo i piccoli stati restano l'Azerbaijan. Poi Mosca che però ha un esercito abbastanza grandino. E siamo a due. La Finlandia. L'impero romano. La Norvegia. La Finlandia. E il piccolo regno di Sami. E va bene ragazzi. Direi che per questo video è tutto. Mi raccomando. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina per seguire le novità. Lasciate tanti 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 tantissimi mi piace. Passate dal server discord. Dal canale twitch. E dal canale di Giuseppe Novelli. Autore della copertina di questo video. Detto ciò è davvero tutto. E allora dopo aver salvato il gioco. Come facciamo sempre. Noi ci vediamo. Con un prossimo. Video. Video.